Chiediamo già alla Commissione di adoperarsi perché nel più breve tempo possibile venga a essere presentato il nuovo bilancio rettificativo per far fronte a quelli che sono i fabbisogni ulteriori pagamenti a tutti noi noti per una corretta implementazione del bilancio 2013 e per evitare che fabbisogni rilevanti di pagamenti dal 2013 si riversino sul bilancio del 2014. Nella nostra risoluzione abbiamo sottolineato con forza la necessità per il Consiglio di approvare anche questo nuovo bilancio al fine di finanziare importanti politiche di sviluppo, di occupazione, di sostegno ai giovani e alle piccole e medie imprese, evitando quindi ogni possibile problema di esecuzione dei pagamenti per l'esercizio 2013.